Ha fatto tappa questa mattina all'Istituto Ghisleri di Cremona il progetto dell'Università Cattolica promosso dall'economista Carlo Cottarelli e che coinvolge figure di spicco del panorama culturale, economico-finanziario, imprenditoriale e politico del Paese. Si tratta del programma di educazione per le scienze economiche e sociali dedicato agli studenti e che coinvolge oltre 40 personalità disposte a condividere le proprie esperienze professionali con gli studenti. Sulle prospettive per il nostro Paese e sulla possibilità per i giovani di trovare lavoro Cottarelli si è espresso così. Negli ultimi due anni c'è stata una forte crescita dell'occupazione, però siccome la produttività invece non è aumentata, anzi si è addirittura ridotta, abbiamo creato posti di lavoro non di alta qualità. Quindi la sfida non è soltanto creare altri posti di lavoro così, ma posti di lavoro in cui si guadagna bene. Ci vuole un'economia che cresca più rapidamente, perché cresca più rapidamente ci si vogliono più investimenti. Per fare più investimenti bisogna rendere l'Italia un Paese dove è facile investire, quindi meno burocrazia, una giustizia che funziona più rapidamente. Se ci si riesce anche meno tasse, comunque un sistema di tassazione più semplice, tutte quelle cose che servono a portare imprese in Italia o far rimanere in Italia le imprese che ci sono.